Come rappresentare e descrivere dati relativi a serie storiche e, soprattutto, come confrontare fra loro diverse serie storiche? Nella scorsa lezione abbiamo imparato a usare tabelle grafici per rappresentare una serie storica. In questa lezione introdurremo uno strumento assai utile per studiare una quantità che varia nel tempo, i numeri indice. Consideriamo un esempio legato all'andamento della popolazione residente in Italia. Il rapporto tra il dato del 2010 e quello del 2009 dà un'idea della variazione della popolazione. Abbiamo scelto di moltiplicare tale rapporto per 100 perché ciò facilita l'espressione di questa variazione in forma percentuale. Infatti, posto uguale a 100 il dato del 2009, il risultato 100.49 equivale a dire che la popolazione residente in Italia è aumentata dello 0.49% nel periodo 2009-2010. 100.49 è un esempio di numero indice, cioè di rapporto tra i dati di una stessa serie storica. Consideriamo ora la variazione della popolazione tra il 2010 e il 2011. In questo caso, il numero indice è 100.47. Ciò vuol dire che la popolazione è aumentata di circa lo 0.47% nel periodo 2010-2011. Si tratta di un aumento percentuale leggermente inferiore a quello che si è avuto nel periodo 2009-2010, cioè lo 0.49%. I numeri indice, quindi, sono particolarmente adatti a confrontare le variazioni che si hanno in periodi temporali della stessa durata, ma fra loro diversi, così come sono particolarmente adatti a confrontare variazioni di grandezze diverse riferite allo stesso periodo temporale. Consideriamo due diversi tipi di numeri indice, a base fissa e a base mobile. Studiando la lezione e svolgendo le varie attività proposte, capirai che con i numeri indice a base fissa si osserva la variazione di una grandezza rispetto a un periodo base di riferimento, che può essere anche molto lontano nel tempo. Nel caso dei numeri indice a base mobile, invece, il punto di vista è più locale. Si osserva come varia una grandezza rispetto al periodo temporale immediatamente precedente. Più precisamente, nei numeri indice a base fissa, viene mantenuto fisso il periodo temporale di riferimento. Per esempio, in questa tabella, i numeri indice sono tutti i rapporti che hanno per denominatore il dato della popolazione residente in Italia nel 2008. Tali rapporti danno quindi informazioni su come la popolazione è variata nel tempo rispetto a quella presente nel 2008, che è posta per convenzione uguale a 100. Guardando la tabella dei numeri indice a base fissa, sappiamo immediatamente che la popolazione è variata dello 0,71% circa dal 2008 al 2009, dell'1,21% circa dal 2008 al 2010 e dell'1,69% circa dal 2008 al 2011. Nei numeri indice a base mobile, il periodo temporale di riferimento cambia di volta in volta. La variazione è calcolata rispetto al periodo immediatamente precedente. Per esempio, in questa tabella, il primo numero indice a base mobile non è definito, perché non si hanno informazioni sul dato relativo alla popolazione residente in Italia nel 2007. Il secondo numero indice è il rapporto tra il dato relativo al 2009 e quello del 2008. Il terzo numero indice è il rapporto tra il dato relativo al 2010 e quello del 2009, e così via. Guardando la tabella dei numeri indice a base mobile, sappiamo immediatamente che la popolazione è variata dello 0,71% circa dal 2008 al 2009, dello 0,49% circa dal 2009 al 2010, e dello 0,47% circa dal 2010 al 2011. Per prepararti alla lezione, prova ad affrontare il problema di apertura dal titolo Il prezzo della benzina e guarda il primo esempio che compare nella sezione Strumenti di lavoro. Buon lavoro!